c'è qualcosa di grande tra di noi wow 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 cari amici appassionati di gaming e di arson benvenuti ben rientrati sul mio canale ragazzi sono contento che sul primo video insomma di arson che abbiamo fatto che ho fatto ci sono stati un bel po di commenti un bel po di like un bel po di visualizzazioni pensavo addirittura meno quindi qualcuno c'è ancora dall'altra parte e vi ringrazio chiaramente dei commenti molto caldi che mi avete dedicato grazie grazie davvero non sono molto capace di parlare di queste cose è capito che toccano questa parte qua per scopare di cose che tocca oggi grande mazzo sono tornato i video non saranno giornalieri ma cercherò di portare il possibile ho pensato un mazzo da portarvi che non ho mai portato in live come quello dell'altra volta li porto prima qua se riesco mi ho avuto un'idea un bel big pala con prima linea un big pala pesantissimo con prima linea ed è venuto il momento di andare a ballare fritte la rischiamo facciamo così ce la rischiamo eh dai ci può stare opsa opsa vediamo cosa fanno il suo amico frittole frittole che mi convini quasi 1500 direi un buco nell'acqua ma ciao addirittura coin e uccide madonna frittole sta veramente nervoso il mitico frittole finito lo si trova facciamo questo però di essere ancora vivi perché questo è super agro mi pare il nostro amico frittole mi lanciai l'uomo di cacca al vento dalla portace uh che paura guarda è fritto friggi friggi frittole ok vai di frittole quasi 1500 citazione da non ci resta che piangere 1490 qualcosa quasi 1500 raga ci dobbiamo tenere dobbiamo tenere e crederci non ci stiamo credendo abbastanza secondo me crediamoci adesso non so stiamo provando il deck comunque toglie pezzi attenzione frittole non me lo aspettavo il grande fritto un grande comunque resta un grande a mio parere altra innovazione incredibile togliamo pezzi siamo già 19 raga dobbiamo soffrire questo è furto vitale però è il nostro amicissimo speriamo di piacere giocarlo far entrare il dottor Thaddeus minchia il Thaddeus è tornato stiamo tankando contro un grande frittole potrebbe entrare anche lui però io vado di questo automatico qualsiasi cosa c'è vado di questo tra l'ideale con assalto quindi leva pezzi bene bene basta basta andiamo del mitico anche questo è forte però mettiamo frittole e adesso fa che non c'è da silenziarlo roba del genere ci entra o lui o lui o Gesui o Katrin cerca soluzioni trova la soluzione aia si sta cacando sotto vediamo su tua faccia va eh sono un po' innervosito qualcuno ha detto bomba qualcuno ha ordinato un volo in faccia bravo quindi a Trada alla fine Trada però uh droppalo grandi e mo? frittole è rimasto malissimo frittole togli tutti i pezzi fritto sei ok vai a sette che abbiamo è meglio tenere qua è meglio che entrava lui eh la mostosità incredibile magari raga che ti dite furto vitale vediamo cosa vuole combinar noi siamo tornati a 30 tra l'altro ridendo e scherzando perché questi hanno furto vitale proprio quello la partita si conclude qua contro un grande mazzo non siamo riusciti a sfruttare tutte le cose da sfruttare ma stiamo stiamo facendo stiamo facendo danni in ladder ritorniamo frittole frittole forza frittole voi non siete pronti mi pare pronto a ex con seed frittole quasi 1500 saluti fritto gina marefiero oh la madonna non saprei teniamo uno spadone teniamo uno spadone è kangor tanta roba kangor tanta roba se non ce lo trasforma silenzia tanta roba vi è arrivato uno 5 chiaramente raga vivi possibilmente vivi consacration ok vediamo che tipo di di mago è siamo un mago offensivo voglio dire questo l'ha imbaffato ma sai che non lo sapevo magico era un 1-1-1 una volta anche questo è forte noi dobbiamo star lì far finta che siamo un mazzo che dorme e poi kangor a un certo punto e poi a un certo punto prima linea signori ok è arrivato rinviene la magia ok forte forte quella roba lì la nuova leggendaria del priest no del mage è però scegli la sta magia forza ci manca solo che ci mette giù una pecora quello come cazzo è rinviene la magia torna la tua mano alla fine del turno ok questa l'ho messa in caso di emergenza prossimo turno potremo fare arma e poi kangor che può affrontare o lui o lui perfetta in curva guarda me l'hai fatta proprio giusta perfetta bravissimo prima linea via tutti perfetto la rimozione devastante pensavo non avessi l'arma invece ce l'avevo lì l'ho tenuta e adesso la festa di kangor speriamo non ce lo silenzi perché sennò cominciamo ad andare in difficoltà anche se abbiamo un'ottima prima linea raga riempiamo il servitore di robe questo è riempire la magia di una classe di qualsiasi classe costa un in meno io faccio kangor basta che non mi trova una cosa che divasta kangor ti prego non contro kangor è un grande ti prego no contro kangor altra prima linea kangor questo io leverei fino a danni magici non è che mi piace tanto lasciarglielo lì ok 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 raga ci siamo dieci carte lui vediamo quello che succede forte questa non me la ricordavo rimanere il servitore dal gioco bravo stai migliorando non sei ancora fortissimo ma stai migliorando il leviatano prossimo turno prossimo turno leviatano bravo la prima ce l'ho respinta però noi abbiamo questo turno 9 si fulla che va bene non va bene io fullo che culo che ha trovato quella magia lì dove è che è scusa e beh ce l'ha di mazzo no no creato da elementare il prismatico altro che ce l'ha di mazzo andiamo di lui bravo ok top l'elec reale prima uno draga e l'altro pesca draga si prendiamo questo l'altro pesca va bene andiamo a schiantare anche questa magari c'è qualcosa di interessante però faremo chiaramente prima linea non appena disponibile vai vai di prima linea ci siamo prima linea la festa è finita drop alo abbiamo anche una consacration in caso e va bene però io ho rotto il cazzo va bene va bene adesso tocca a me però sacco di merda tocca a me dammi vediamo sto riavvolgimento lì cose dai 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 vediamo ok sei forte sei forte mico mio sei forte grosso ho paura va bene tocca a me forza non c'è più niente del mazzo ma che sfiga forte sta roba umalo forte cazzo il nostro idolo il barone all'improvviso il barone all'improvviso signori vai ok ok back to back signori quanti ne ho uno due tre perfetto back to back e la faccio tutti giù non me ne frega un cazzo devi impazzire amico mio tu devi diventare pazzo pazzo ti voglio migliori ci siamo ci siamo mazzo crazy che è dentro ah fai pure ste puttanate qua fai pure fai pure ste cagate qua tutti a faccia tutti a faccia non mi fai più niente non mi fai più niente amico sei nella palta sei nella fottuta palta speriamo che la fottuta palta speriamo che la fottuta palta quanti danni abbiamo raga quanti danni abbiamo contateli contateli e qua un ping lo fa però rimane l'ottotto raga dobbiamo contare i danni perché con un raga erano spiazzato all'angolino potrebbe potrebbe esserci ha fatto il figo fino adesso corri in vieni ha fatto tutto lo stiloso anche fastidioso avete notato ok se non ci blocca niente io sono contento raga stai cagando nelle mutande amico mio tu stai facendo figure di merda queste si chiamano figure di merda 15 6 7 18 19 20 si si li tiro via un pezzo ma però siamo little 7 15 20 23 24 25 sono perfetti ma non la voglio vincere così o no mi piace tutto faccio tutto faccio tutto faccio questa è la potenza di dollar anche ci piace in teoria dovrebbe fare prima questo questo rantolo di morte del baronageddon e poi lui teoricamente e quindi è l'ital vediamo se è vero salta con le tue schillettine del cazzo voleva rinvenire 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 cose fare io sono schillato ma che schillato di entrare di potenza deve sentire la presenza ti ho fatto sentire la presenza ed eccolo qua al mazzo raga questo potete metterne anche una devo dire forse doppia eguaglianza è meglio ve lo dico non avevo visto sta cosa che avevo fatto perché è un mazzo che avevo in mente che ho montato che ho provato con voi chiaramente del tutto migliorabile una cura ci sta doppia eguaglianza e poi abbiamo una cura pesca adonata militare per tankare all'inizio consacration rimozione questa è una carta che magari molti di voi non conoscono io non conoscevo fino a che non sono trovato su ars non che ti dà scudo di vino all'eroe per la sua partita devi giocare la magia sacra l'ho messo perché alla fine i servitori sotto andavano bene si può stituire questa sicuramente si spada neve di argento sempre roto tra l'altro adesso rigida la tre di salute me ne sono accorto quando ho preso in mano il paladino l'altro giorno kangor molto forte da trovare subito da mettere giù perché se non lo rimuovono e al momento non vedo che girano tanti silenzi in ladder ti comincia a far entrare servitori enormi che hanno furto vitale e lui stesso furto vitale quindi se ti entra una provocazione a furto vitale ti refulli tranquillamente poi c'è lei che entra si schianta e evoca un servitore dal tuo mazzo che sarà un 2-2 il barone che dà un tipo a pulire questo ti evoca anche l'altro pezzo eccetera 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 ma la carta che ci stimola di più che ci eccita di più chiaramente è la prima linea quando puoi giocare in prima linea giocala non ci sono modi di scontarla più di tanto devi tancare un attimo ma poi ti fulla la board di pezzi enormi finché una delle due board non è piena però attenzione quindi se l'altro ha più pezzi di te la sua si fulla la tua no gente carrozzata con rantoli di morte o effetti di fine turno importanti non gridi di battaglia chiaramente fatemi sapere cosa ne pensate spero vi state divertiti ci vediamo presto alla prossima grazie per i commenti like e tutto quanto ciao ciao